Benvenuti sul canale. Oggi andremo a scoprire una cosa mozzafiato di Terramara che ci terrà incollati allo schermo durante le emozionanti puntate del 26 fino al 28 luglio. Siamo catapultati nella notte. Fechili e Unkar si ritrovano nel loro solito luogo segreto. Lei percepisce la tristezza che avvolge Fechili, il quale si apre confessando il suo dolore. Nell'aver visto andare via da questa terra l'intera sua famiglia e la mancanza di coloro che ha amato lo spinge a visitare le loro tombe. Tuttavia rivela a Unkar di non riuscire a comprendere il dolore di sentire il figlio chiamare padre un altro uomo, riferendosi a Ilmaz che deve sopportare la lontananza di Adam che chiama il papà a Demir anziché a lui. Un dolore che spezzerebbe il cuore di chiunque. Prima di continuare ricordatevi di iscrivervi al canale perché la vostra partecipazione è importantissima per questo canale. Nel frattempo Zuleila è al fianco di Ilmaz che le confida che dovranno comprare nuovi biglietti aerei assicurandosi che questa volta Demir non possa ostacolarli. Zuleila comprende il suo tormento per Adam perché lei stessa ha sperimentato l'agonia di essere lontana dai suoi figli. Un'agonia che fa sentire la vita svanire, andarsene. Dall'altra parte Unkar a un certo punto chiede a Fekeli quali saranno le mosse di Ilmaz e l'uomo risponde che nessun genitore accetterebbe volontariamente di abbandonare il suo figlio a un altro uomo e Ilmaz farà tutto il possibile per riaverlo con sé. Ma Unkar non può fare a meno di esprimere i suoi timori riguardo alle intenzioni di Demir che farà di tutto per impedire che ciò accada. In questo intrigo di sentimenti Fekeli comprende che i tre bambini saranno travolti dalle conseguenze di questa lotta ma è disperatamente alla ricerca di una soluzione plausibile. Mentre Zuleila con il cuore infranto confida a Ilmaz che le dispiace pensare di separare Wujigan dal suo bambino. Ilmaz le risponde con tristezza ammettendo di non volere fare una cosa del genere ma la fragile salute mentale di Wujigan li costringe a prendere questa difficile decisione. Zuleila però è determinato a non fuggire perché né lei né Wujigan sarebbero in grado di sopportare l'idea di essere separate dai loro figli. Fekeli suggerisce a Unkar una audace soluzione per risolvere il tormento dei genitori divisi. Il divorzio di Zuleila e Ilmaz. Solo così i loro bambini potranno vivere serenamente e incontrare entrambi i genitori quando lo desiderano. Ma Unkar è scettica sapendo che Demir e Wujigan non accetterebbero mai questa proposta. Tuttavia Fekeli li incoraggia a non perdere la speranza. Zuleila confessa a Ilmaz il desiderio di divorziare pacificamente evitando che i loro figli soffrano. Ma sa che la realtà è ben diversa. Ilmaz confida a Zuleila l'inaspettata decisione di Wujigan di voler divorziare. Con il cuore affranto Ilmaz esprime la speranza che Unkar possa intervenire per convincere Demir a fare la stessa cosa. Ma Zuleila non ci crede per nulla e convinta che Demir sia troppo testardo per ascoltare ragioni da qualcuno. La coppia si trova di fronte a un bivio senza via d'uscita. Il divorzio è l'unica soluzione per permetter loro di vivere insieme con i figli. Ma rinunciare significherebbe condannare Ilmaz a un dolore insostenibile. Sarà l'amore a guidare la loro scelta. Ma quale strada sceglieranno? Dall'altra parte Sermin incontra Beice la quale nota subito la splendida collana che indossa Sermin. Spiega che la collana è il simbolo del legame di Samui tra lei e Demir poiché sono cugini. Poi l'attenzione della zia di Mujigan si sposta su Fikaret. Beice sospetta che Fikaret non sia il vero nipote di Fikaret e quindi è determinata a scoprire la verità e a smascherare tutto. Nel frattempo Mujigan si apre con Fikaret svelando il suo passato e la sofferenza che ha vissuto. Quando arrivò a Kukurova Mujigan era una persona diversa ma tutto cambiò quando incontrò Ilmaz. L'amore tra loro sbocciò nonostante l'opposizione della sua famiglia. Tuttavia presto scoprì il tormentato legame tra Ilmaz e Zuleyla. Quando lo confrontò riguardo i suoi sentimenti per l'ex moglie lui mentì negando ancora l'amore per lei. Il tradimento la ferì profondamente soprattutto quando si ritrovò solo in ospedale durante il parto difficile del loro bimbo mentre lui invece di essere con lei era al fianco di Zuleyla. Il bimbo nacque ma la salute fu a rischio Mujigan era disperata. Fikaret dimostra molta comprensione e sostegno a Mujigan offrendo il suo ascolto senza giudizia. Tuttavia persino Fikaret si chiede se c'è qualcosa che possa fare per aiutare la situazione complicata. Al contempo Demir torna a casa con numerosi regali. La sua presenza attira subito l'attenzione di Zuleyla e dei bambini. Yaman donna due braccialetti d'oro con incisi nome e cognome dei suoi due figli Leila e Adan. Mazzuleyla suggerisce che il nome sia sufficiente mentre Demir insiste che portino con orgoglio il cognome della famiglia per sempre. Nel frattempo Fikaret riunisce la famiglia a cena e Yaman decide di affrontare i suoi errori e ammette di aver causato molta tensione con l'eliti con Mujigan. Con un cuore sincero chiede perdono a tutti specialmente a Mujigan riconoscendo di non aver mai voluto ferirla. Tuttavia con una sincerità disarmante Yaman fa riferimento alla volontà di Mujigan di divorzare e riconosce che il divorzio potrebbe essere la soluzione migliore per permettere a entrambi e al loro figlio Kremali di trovare serenità promettendo di sostenerla sempre e di non lasciarla mai sola. Mujigan però rifiuta l'idea del divorzio ritornando sui suoi passi desiderando che il bambino cresca con entrambi i genitori uniti. Yaman le chiede se preferisce che il bambino cresca in un ambiente malsano e pieno di tensioni ma lei è convinta che sia lui la causa dei loro problemi. In un confronto emotivo Yaman difende se stesso sostenendo che la sua ossessione per Zulele e i suoi sospetti hanno contribuito a distruggere il loro matrimonio. Mujigan decide di allontanarsi e beisce sempre al centro dell'intrigo rimprovera Yaman per la sua volontà di divorziare invece di cercare di mantenere la famiglia unita. Fecheli a questo punto interviene invitandola a non intromettersi nelle questioni private tra marito e moglie e beisce offesa abbandona la tavola. In villa invece terminata la cena Demir regala anche a Zulele una preziosa collana con un'incisione speciale. Nonostante il gesto gentile Zulele rifiuta il regalo ma Demir non le dà ascolta ed insiste nel metterle la collana al collo chiedendola di non togliersela mai. Il salotto si trasforma in un campo di battaglia emotivo quando Demir accusa Zulele di aver panificato di scappare con Yaman. Determinato a non permetterle di portare via i suoi figli Demir scopre una verità sconvolgente. Zulele rivela che Yaman sa che Adam è suo figlio. Demir è svalordito e chiede chi gliel'ha detto e Zulele ammette di averlo fatto lei stessa per liberarsi di un segreto che la tormentava da troppo tempo. La situazione precipita quando l'Altun chiede il divorzio riconoscendo che nessuno dei due è felice. Uncari interviene sostenendo che la separazione potrebbe essere la soluzione migliore ma Demir ostinato nel suo amore e nel possesso dei suoi figli si rifiuta di accettare la verità e dice a Zulele che il suo destino è legato a lui e lei non potrà mai andarsene con i bambini. Mentre a casa di Alir Ameth Yaman si confronta con le conseguenze delle sue azioni passate e Fekeli offre sagge parole di conforto e speranza. L'uomo gli fa notare che forse Demir non sa ancora la verità su Adna visto che non ci sono stati conflitti al riguardo. In ogni caso Yaman è determinato a proteggere Zulele da qualsiasi danno, indipendentemente dalle consapevolezze di Demir. Ma Fekeli rassicura Ilmaz dicendo che ora Zulele è protetta da una donna forte come Unca e che veglierà senz'altro su di lei. Tuttavia Ilmaz è tormentato dai suoi pensieri e dai rimorsi per aver desiderato fare del male a Zulele nel passato, ignaro della sua innocenza. Fekeli gli sottolinea che alla fine grazie alla sua coscienza ha evitato una tragedia. Fekeli raggiunge Mujigan dimostrando di essere una presenza premurosa nella sua vita. Mujigan è grata di avere qualcuno a cui confidarsi ma la sua situazione sembra essere senza speranza. Mentre Ilmaz ancora in compagnia di Alira Met condivide con Fekeli le sue preoccupazioni riguardo al futuro e alla possibilità di una vita insieme a Zulele che sembra impossibile a causa dell'orgoglio di Mujigan e della sua incapacità di accettare che il suo amore per un'altra donna esiste. Tutti sono stati invitati e l'elegante villa Yaman viene preparata per la festa da Sanye. Tuttavia Zulele è piena di preoccupazioni poiché il piccolo Adam sembra troppo giovane per affrontare un simile rito. A questo punto chiede a Uncar di intercedere su Demir improllandolo di aspettare. Uncar confida a Zulele di averci cercato di convincere Demir ma le sue suppliche sono rimaste vane. Quando Demir fa il suo ingresso insiste sulla circoncisione di Adam citando tradizioni antiche e dicendo che alcuni bambini vengono sottoposti a questo rito fin dalla nascita. Anche se un medico assicura che andrà tutto bene il cuore di Zulele è lacerato dalla preoccupazione. Successivamente Zulele implora Demir di attendere. Almeno fino a quando andrà compirà almeno cinque anni. Ma il suo orgoglio e la tradizione parlano più forte. La decisione di Demir è irremovibile. Dall'altra parte Ilmaz ha trascorso la notte da solo e Mujica non sembra curarsi di questa situazione. Ma Beice è preoccupata. Sottolinea che la guerra tra loro è iniziata e teme che possa portare al divorzio. Mujica svela con fermezza il suo intento di non permettere mai a Ilmaz di avvicinarsi a Zulele. Beice tuttavia inquieta per Fikere si lamenta del suo interesse unicamente all'eredità di Fecheli. Successivamente durante un momento conviviale a tavola Cettina annuncia una notizia. Adnan sarà sottoposto alla circoncisione. L'annuncio agita profondamente Ilmaz che reagisce abbandonando di corsa la tavola. Mujica ricomincia a Fecheli che quando si tratta di Zulele il caos sembra inevitabile e teme le conseguenze se Ilmaz scoprirà la verità sulla sua paternità. Mentre la zia di Mujica con la sua malvagia astuzia promette di trovare un modo per liberarsi di Fikere. Beice, mossa dalla curiosità e dalla preoccupazione per Fikere si infiltra furtivamente nella sua camera e comincia a frugare tra le sue cose. Tra gli oggetti personali trova un passaporto e dopo averlo letto attentamente esclama che ora Fikere è un uomo morto. Nel frattempo Zulele è in compagnia di Unkar travolta dai timori riguardo cosa potrebbe accadere quando Ilmaz verrà conoscenza della cerimonia di circoncisione di Adnan. L'incertezza e l'ansia pervadono la villa. Poco dopo il culpo presagio si avvera quando Ilmaz fa il suo ingresso nella villa e si dirige direttamente ad Ademir. Con una voce carica di tensione chiede Ademir se sia veramente intenzionato a circoncidere il suo figlio. Nel frattempo Adnan è nella sua camera, ignaro nel dramma che sta per accadere, giocando da solo con una pistola del padre che ha trovato in un cassetto. La situazione precipita quando Ilmaz dice a Demir che non permetterà che la circoncisione avvenga, ma Demir gli mostra il documento d'identità di Adnan in cui risulta come il padre legale. Ilmaz replica con rabbia che lui sa bene che Adnan è suo figlio e che il suo vero nome è Ilmaz, non Adnan, e gli ordina di restituirgli suo figlio. Demir invece respinge categoricamente la richiesta, affermando che Adnan è suo figlio fin dalla nascita e non glielo darà mai. La tensione raggiunge il punto di rottura e Ilmaz infuriato impugna la pistola puntandola verso Demir, minacciando di farla finita, se non gli verrà restituito suo figlio. Ma in un attimo di sospeso terrore, dal piano superiore un rumore assordante riempie l'aria, uno sparo improvviso che lascia tutti attomiti. Cosa succederà ora? Scoprite nel prossimo video alla scoperta di segreti sconvolgenti e sorprendenti colpi di scena. Iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche, ma se volete sapere subito e siete curiose vi lascio il link di un video che ho preparato apposto per voi dove vi farò vedere momento per momento quello che succederà ad Anna. Al prossimo video.